Un attimo di recupero, se c'è bisogno completiamo la respirazione con dei movimenti di ispirazione. Benissimo, divarico le gambe, braccia aperte, mi appoggio, un, due, mobilità articolare. Delle anche della colonna, del cingolo scapolo omerale sul piano frontale. Chi vuole fare più ritmo non fa il rimbalzo, ma va di seguito una gamba distesa, una gamba piegata. 5, 4, 3, 2, 1 Laterale, 1, 2, 3, 4 Tengo fermi i piedi, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 7 Chi non vuole può fare più fatica, la di seguito 2, 1, stop Mobilità ancora, mi abbasso 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, stop Di seguito Guardando a terra il pavimento fra i piedi 1, 2, 3, 4, 5 Braccio che va sempre più in alto Sempre più in alto Sempre 9, 8, 7, 6, 5, 4 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Vai, stop Vengo su ad agio Una vertebra alla volta Su col braccio e verso l'alto Mi tolgo, mi resto a cadere 1, 2, 3, inspiro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Soffio sulla braccia, inspiro Soffio sulla braccia, inspiro Soffio sulla braccia, inspiro Muovo i piedi per accompagnare la torsione Piano piano ancora uno l'ultimo inspiro, la stop, l'ultimo da questa posizione, laterale, la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, stop.